Grazie anch'io un po' di Amarcord. L'ha ricordato Franco Di Mare, dopo gli studi di Massimo Severo Giannini e di Giuliano Amato, all'origine della legge 400 ci furono i governi di Giovanni Spadolini e di Ciriaco De Mita. Spadolini ne pose le premesse con dipartimenti e uffici subito operativi nella vita effettiva di Palazzo Chigi in quello stesso agosto del 1981. Ci fu poi il lavoro della commissione copriseduta da Enzo Cheli e si arrivò nel maggio del 1982 al progetto di legge che rifletteva quel disegno. Pochi mesi dopo il famoso Decalogo ne fu il popolare manifesto, prima di una delle tante crisi che se la portò via. Seguirono sette anni di percorso carsico, nessuno dei successivi governi poteva negare la necessità della legge, ma nessuno riuscì a vararlo. Il governo Craxi vi giunse a un passo, come ha ricordato Giuliano. Lo fece il governo di Ciriaco De Mita, il giovane sindaco di Nusco, al quale credo che possiamo rinnovare gli auguri per i suoi recenti 90 anni. Perché Spadolini? Perché De Mita? L'uno e l'altro, per differenti ragioni, avevano bisogno di risorse istituzionali aggiuntive e, come dire, liberatorie rispetto ad un ruolo tradizionale di primus inter pares nell'assetto di governo. Avevano bisogno di tutte le possibilità racchiuse nell'articolo 95 della Costituzione per valorizzarle interamente, non per costruire un ordinamento qualsiasi della Presidenza del Consiglio come struttura paraministeriale, avevano precisamente bisogno di un ordinamento come complesso funzionale all'emersione del primato, anche giuridico, del Presidente. Spadolini ne aveva bisogno perché nella Repubblica dei partiti di massa troppo eside risultava la sia pur prestigiosa utilità marginale del suo partito del 3%. De Mita ne aveva bisogno per attenuare le strettoie in cui si muoveva il suo governo, in una sofisticata coalizione con patto di alternanza, cioè in pratica con crisi differita nel suo seno. L'uno e l'altro cercavano di disegnare la sinopia di un regime di primo ministro, disegno contrapposto non tanto al principio di collegialità del Consiglio dei Ministri, quanto alla sua storica degenerazione nella ministerialità, nel governo per feudi ministeriali, territori semi-autonomi marcati con le bandierine dei partiti della coalizione. Questo contesto ne segnò le origini e si deve tenere presente quando si parla della 400 come di legge organica e soprattutto come di legge di sistema. Legge organica perché di integrazione dell'articolo 95 della Costituzione, il che significa legge costituzionalmente necessaria, tale cioè da poter essere modificata, come del resto avvenne nel decreto Bassaniti del 1999, e anche contestualmente sostituita, ma non tale da poter essere semplicemente abrogata. Ed anche legge di sistema. Perché con l'elenco delle funzioni spettanti al Consiglio e al suo Presidente, la legge 400 disegna un ordine di interdipendenza che dalla testa di governo si ramifica verso il campo dei ministeri e degli enti pubblici, verso il campo delle autonomie territoriali, verso il campo delle istituzioni europee. Attenzione però, non siamo in presenza di un insieme di interdipendenze cristallizzate una volta per sempre. Quando l'articolo 95 parla di mantenimento dell'unità di indirizzo politico e amministrativo, significa due cose. Significa che l'unità è un problema costante di governo, per evitare la diaspora a provvedere solo sulla base di interessi e di spinte settoriali. Ma significa anche che l'interesse su cui si richiede tale unità è in permanente aggiustamento per domande e influenze che provengono sia dal basso, dalle autonomie territoriali istituzionalizzate in conferenze, e dall'alto per contratti stipulati in sede comunitaria. In questa lettura della Costituzione la 400 non risulta quindi una legge di mera connessione né di assemblaggio di un meccanismo, è legge invece strumentale alla dinamica di un organismo, quale risulta il governo secondo l'articolo 95, è strumentale al motore di questa dinamica. Il Presidente del Consiglio è anche qui interpretando letteralmente la Costituzione. L'articolo 95 contiene infatti una parola assolutamente nuova e in un certo senso di rottura rispetto alla storica sequenza normativa che nello Stato italiano ha definito la figura del Presidente del Consiglio. La parola nuova è promuove, promuovendo l'azione dei ministri. Non c'era nel decreto d'Azzeglio del 1850, non c'era nel decreto Ricasoli del 1867 di brevissima vita, non c'era nel decreto Zanardelli del 1901 di lunghissima vita, e non c'era neppure, perfino nella legge fascistissima del 1925, che ne mutava il nome in capo dello Stato, primo ministro. In tutte queste configurazioni materialmente costituzionali che si susseguono per un secolo, ritroviamo le formule che saranno poi trasferite nell'articolo 95, direzione, coordinamento, mantenimento dell'unità. Non troviamo invece il termine promozione. La Costituzione del 1948 lo introduce, è solo una lettura rattrappita della Costituzione, lo ha ignorato, lo introduce e la legge 400 se ne è propria e lo mette a frutto per segnalare proprio i momenti decisivi in cui l'azione del Presidente del Consiglio, con un suo conseguente e nuovo potere di direttiva, ha appunto una valenza sistemica. Ecco l'articolo 5 della legge, promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo. Ed ecco il comma 3, promuove l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie. Ed ancora la lettera B, promuove l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni. Politica generale, politica comunitaria, politica regionale. I tre nodi cruciali dell'azione di Governo e tutti incardinati sul Presidente del Consiglio. Promozione è termine chiave dunque di una supremazia di ruolo che non si fonda su una sommatoria di competenze maggiori di quelle dei singoli ministri e dello stesso Consiglio. Si fonda sulla qualità di poteri azionabili quasi una possibilità permanente di avocazione di ogni altra competenza nell'arcipelago Governo per romperne l'inazione e la passività. Certo, la Costituzione e la legge 400 parlano quasi sempre di promozione congiuntamente al coordinamento. Promuove e coordina, ma non è un endiadi. Coordinamento è preparare e proporre un punto di coerenza nella complessiva attività di governo. Promozione consiste invece nell'attribuzione al Presidente di un potere di stimolo e di impulso, come recentemente ha precisato la nostra Elisabetta Catalani. Ora, questo impulso verso che, in funzione di che? Certo, della direzione generale del governo, dell'unità di indirizzo politico e amministrativo, ma già si è detto che si tratta di bersagli mobili, in forza della natura del nostro Stato, che è allo stesso tempo comunitario, nazionale e regionale, e quindi è tessuto di interferenze e interdipendenze, di ordinamenti, di pari valenza costituzionale che trovano il loro bilanciamento nel generale principio di sussidiarietà. Quando la legge 400 individua nel Presidente del Consiglio il titolare della questa funzione costituzionale di promozione, oltre che direzione dell'azione generale del governo, vi è inissa anche il riflesso della colazione del Presidente nei vertici operativi dei tre ordinamenti, al di là di quello statale, nell'ordinamento comunitario. A partire dal 1975, tre anni prive del 1978, erano divenute irregolari le riunioni dei capi di Stato e di governo, che poi saranno chiamate dopo Maastricht e Lisbona Consigli europei. Già con quella autorità di fatto, codificata poi nell'articolo 15 del Trattato, il Consiglio europeo dà l'unione agli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche necessarie. Formula, come si vede, molto vicina a quella del nostro articolo 95, dove la presidenzializzazione indotta dall'ordinamento dell'unione trova come una sua naturale corsia. Per l'ordinamento regionale poi è la stessa legge 400, che istituisce la conferenza permanente Stato-Regioni, preseduta dal Presidente del Consiglio. Quando si pensò, perciò, alle caratteristiche che doveva avere l'ordinamento della Presidenza, queste peculiarità di un ruolo istituzionale di plurima dimensione furono determinanti nella scelta di apparato di supporto. Nella commissione co-preseduta da Enzo Cheli si intuì, e grande fu l'apporto del compianto professor Piero Capotosti, che la legge sulla Presidenza dovesse essere innanzitutto una legge di delegificazione. Insomma, che si dovesse concepire quell'ordinamento costruito con legge come composto tuttavia di paratie mobili, disponibili con semplici decreti del Presidente del Consiglio, in una specie di open space, dipartimenti e uffici dovevano essere variabili, cioè adattabili alle mutevoli esigenze della direzione politica, degli impulsi promozionali, che il titolare della carica avrebbe potuto imprimere al suo governo. Una struttura, insomma, per compiti di staff, con un'autonomia organizzativa, contabile e di bilancio, questa è già conseguita per la prima volta nel 1981, con il bilancio dell'82 del Ministro Andreatta. Quindi autonomia rispetto all'universo ministeriale, di cui pur doveva garantire la coerenza rispetto alla guida presidenziale che allora iniziava. Ma iniziava anche una mai sopita dialettica destinata ad avere il suo epicentro nei rapporti con i responsabili ministeriali della finanza pubblica, come in un momento fa Gianni Letta, con i problemi della ragione di... eccetera. Tuttavia, quel tipo di apparato ausiliare è risultato sempre più appropriato per il supporto del Presidente del Consiglio nei compiti unificanti e propulsivi indicati all'articolo 95. Forse non a caso si parla da allora di una personalizzazione della presidenza. Dell'efficacia difesa di quello... L'apparato è responsabile il segretario generale, Iperanzo Vigli. La 400 individua però nell'ordinamento della presidenza quella che fin dall'inizio definì e nella relazione Spadolini c'è qui una struttura procedurale indefettibile, l'ufficio della segreteria del Consiglio dei Ministri. E questo, come si è detto, l'anello di congiunzione tra il Presidente e i Ministri in Consiglio ed è posto alle dipendenze il suo segretario di Stato, segretario del Consiglio dei Ministri. Lo dice l'articolo 20 del 400. Lo confermerà il regolamento interno del Consiglio dei Ministri varato dal governo Ciampi. Questo segretario di Stato è quindi parte per tale sua posizione del blocco funzionale che la legge salda per così dire intorno al Presidente del Consiglio. Figura irriducibile dunque a quella di ministro come si è talora affrettolosamente proposto in quanto ausiliario e non destinatario del processo di formazione di indirizzi e direttive promananti della Presidenza. La logica della 400 non sente perciò vuoti né incrinature se non appresso di gravi patologie nel rapporto fiduciario tra Presidente del Consiglio e il sottosegretario di Stato, segretario del Consiglio. D'angolatura di Vef dunque. La 400, correlata alla novità dell'articolo 95 della Costituzione, appare come legge che organizza il sistema di governo intorno alla preminenza del principio monocratico. Nel combinato disposto legge e Costituzione le attribuzioni al Consiglio almeno per quanto riguarda l'indirizzo politico generale vanno di conseguenza lette così come avvalorato dalla Prassi piuttosto come di ratifica garanzia collegiale delle posizioni adottate sotto la responsabilità primaria del Presidente. Quando si parla di ordinamento della Presidenza è perciò a questo blocco funzionale che si deve guardare. È fuorviante quella critica ricorrente che perdendo di vista la preminenza essenziale di questa testa di governo lamenta la moltiplicazione di strutture dentro o intorno Palazzo Chigi. Si tratta di organismi che sotto l'etichetta Presidenza e Consiglio cercano in realtà una mera collocazione topografica altrimenti irriducibili in diversi casi ad una casella ministeriale. Un riassetto a chiarimento potrebbe in realtà individuare due strutture alla Presidenza del Consiglio. Una Presidenza come vero e proprio strumento di governo quello creato dalla 400 ed una Presidenza come luogo e meglio si direbbe location di entità svariate bisognose di centralità. Quello che in definitiva dovrebbe essere chiaro però è che queste strutture addizionali non sono in alcun modo in grado di impacciare quelli che sono i compiti costituzionali al Presidente mentre al contrario una struttura necessariamente decentrata come la rappresentanza italiana presso il Correper a Bruxelles è molto più organo intrinseco alla Presidenza e al relativo dipartimento salvo ovviamente la specifica professionalità richiesta di quanto non lo sia la farnesina e questo in ragione della sua funzionalità ai compiti del Presidente del Consiglio europeo e soprattutto quando l'azione europea del Presidente sia coerente ad una strategia nazionale di lunga durata nell'Unione. Di questa coerenza fu esemplare l'attività svolta durante il governo Ciampi mentre fu giusta la recente intuizione al governo Renzi per un legame diretto di quella rappresentanza con Palazzo Chigi ma di questo potrà meglio dire fra un minuto Enzo Moavero che nell'esperienza del governo Ciampi ebbe un ruolo di rilievo. In conclusione vale la pena ribadire che la legge 400 è una legge di sistema non perché distributiva di competenze in un sistema statico ma perché attribuisce al Presidente il potere di promuovere a sistema l'attività complessiva di governo la storia politica e istituzionale del nostro Paese è stata troppo complicata e spesso fatta di resistenze e ritardi perché questa lettura della Costituzione e della legge potesse affermarsi pienamente con tutte le sue conseguenze. Condizioni politiche conflittuali all'interno di governi in coalizione hanno spesso impedito la stessa effettività della legge e dei suoi principi. Per di più in questi ultimi tempi sembra gravare sul nostro sistema politico l'ombra di uno sviluppo istituzionale spezzato l'evoluzione elettorale originata dai referendum popolari per il sistema maggioritario lungo una linea di legittimazione che rafforzava l'emersione costituzionale del Presidente del Consiglio sembra ora interrotto dal ritorno a coalizioni proporzionalistiche di incerta tenuta e leadership. Comunque al di là di transitorie circostanze politiche permane intatta la necessità costituzionale di una guida di governo capace di far sistema e di un suo adeguato apparato di supporto. a 30 anni dalla legge 400 questa necessità sembra semmai più acuta. Grazie. Grazie grazie professor Manzella